Ashes di Selin Dion video, traduzione e testo della canzone su blog.it. Il brano fa parte della colonna sonora di Deadpool 2. Ashes è il nuovo singolo di Selin Dion inciso per la colonna sonora di Deadpool 2. Secondo David Leach, che ha diretto sia il film che il video musicale, la canzone è parte della trama e del tema del film e non solamente un divertente video musicale per stuzzicare l'attesa per l'uscita della pellicola.La dance routine nella clip è stata interpreta da Yanis Marshall.Qui sotto testo e traduzione, in apertura post il video ufficiale. Selin Dion, Ashes, lyrics, verse 1, what apostrofo is left to say? This prior site working anymore every world shot down in flame what's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice calling on you, pre-chorus 2, cause I've been shaking, I've been bending backward till I'm breaking all these dreams go up in smoke, chorus 3, let beauty come out of ash, le beauty come out of ash and any pray to god all the askies can beauty, come out of ashes. Verse 2, can you use these tears to put out the fires in my soul? Cause I'm losing my voice, pre-chorus 2, cause I've been shaking, I've been bending backward till I'm breaking all these dreams go up in smoke, chorus 3, let beauty come out of ash, le beauty come out of ash and any pray to god all the askies can beauty come out of ashes. Outro 6, can beauty come out of ashes. Selin Dion, Ashes, traduzione cosa resta da dire? Queste preghiere non funzionano più ogni parola ridotta in fiamme cosa resta da fare con questi pezzi rotti sul pavimento? Sto perdendo la voce a forza di chiamarti perché sto tremando mi sono fatta in 4 finché non mi sono distrutta a guardare tutti questi sogni andare in fumo lascia che la bellezza venga fuori dalle ceneri lascia che la bellezza venga fuori dalle ceneri e quando prego dio, tutto ciò che chiedo è la bellezza può uscire dalle ceneri? Puoi usare queste lacrime per spegnere i fuochi nella mia anima? Perché ho bisogno di te qui, o perché sto tremando mi sono fatta in 4 finché non mi sono distrutta a guardare tutti questi sogni andare in fumo lascia che la bellezza venga fuori dalle ceneri lascia che la bellezza venga fuori dalle ceneri e quando prego dio, tutto ciò che chiedo è la bellezza può uscire dalle ceneri? La bellezza può uscire dalle ceneri?